ciao ragazze ciao ragazzi finalmente ho visto che siete curiosissimi dopo l'home tour vuoto della casa vuota che vi ho fatto mi avete chiesto in tantissimi Nicole come sistemi i tuoi vestiti come sistemi i tuoi trucchi oh mio dio e quindi oggi vi faccio vedere come ho sistemato la mia cabina armadio l'angolo make up e tutto quanto perché vi faccio ufficialmente il tour della mia nuova cabina armadio però piccola premessa non è ancora finita è finita diciamo al 95 per cento ci sono ancora un paio di cosine che devo fare ma veramente cose minime però un pochino appunto dovrà ancora minimo minimo cambiare però visto che ci sono delle cosine di Ikea che ho ordinato e i tempi di spedizione in questo periodo ragazzi sono biblici ci sono lunghissimi avrei dovuto aspettare tantissimo prima di farvi il tour della mia cabina armadio visto che io sono impaziente voi siete impazienti curiosissimi ho deciso di farlo adesso ma appunto calcolate che un paio di cosine vi racconterò poi nel video ancora che cosa devo fare ma appunto sono cambiamenti minimi quindi questo è quanto ragazzi voglio solo farvi notare che oggi indosso la vedete la felpa del mio merch e ci sono io con la mia cover Louis Vuitton adoro 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 quindi il link in realtà tutte le cosine del merch le trovate sulla schermata di youtube non da tutti i dispositivi mi sa che dagli ipad non funziona ma smartphone e computer dovrebbe esserci dovreste riuscire a vederla e c'è la sezione con tutte queste cosine ci sono le foto appunto della tazza di gatto denver della t-shirt c'è sia t-shirt gatto denver la t-shirt con me insomma vi metterò comunque il link al mio store nel box informazioni così se non riuscite a vedere le foto eccetera sotto il video potete cliccare direttamente lì quindi questo è quanto per l'intro in realtà vi lascio al video finalmente il tour della mia nuova cabina armadio è qui ho attivato lo stabilizzatore ragazzi perché mi avete detto che nelle riprese dei video precedenti in cui vi facevo vedere le cosine nel home tour mi avete detto che non era molto stabile l'immagine quindi era in su standard l'impostazione adesso l'ho attivato lo stabilizzatore quindi fatemi sapere se è un pochino meglio questa è la porta della mia cabina armadio come potete vedere c'è gatto denver che sonnecchia sul tappeto adesso entriamo il resto della casa della casa l'avete visto vi metterò il link dell'home tour casa vuota se ancora non l'avete visto comunque non vi faccio vedere altro oggi se non appunto la mia nuova cabina armadio quindi ciao gatto denver i soliti mi agoli silenziosi quindi questa ragazzi è la mia nuova cabina armadio adesso vi faccio vedere tutto quanto qui ci sono appunto i miei vestiti invernali perché ho fatto il cambio dell'armadio e quelli estivi appunto non sono qua quindi questi sono i miei vestiti invernali adesso scendiamo i gradini e vi faccio vedere ciao amore mio vuoi salutare anche tu ciao ciao ragazzi vi voglio tanto bene vi do i baci vi mando tanti baci eccoci qua da qui potete sicuramente vedere meglio tutta la parte dell'armadio e qui in realtà lo vedete questo spazio è vuoto ma devo metterci un'altra mensola però appunto come vi dicevo le i tempi di attesa all'ikea sono lunghissimi in questo momento quindi sto aspettando che mi arrivi e non posso andare allo store perché qui sono tutti tutti chiusi quindi appunto qui è vuoto perché devo aggiungerci un'altra mensola e aggiungere altre cosine però sostanzialmente appunto per il 95% come vi dicevo è tutto finito e questa qui invece adesso vi faccio vedere tutto quanto è la mia postazione make up lì c'è un po di casino non fateci caso sono soltanto i pacchetti che mi sono arrivati negli ultimi tipo due giorni quindi non calcolateli quelli allora qui ci sono gli alex dell'ikea adoro questi lo sapete come appunto per organizzare i trucchi qui ci sono i miei rossetti preferiti che uso di più in questi questi holders appunto per rossetti li ho presi su amazon se non sbaglio poi ci sono appunto alcune cosine benefit qui ci sono un sacco di miei prodotti mac questi li ho da tantissimo questi li ho presi su muji se non sbaglio sono fantastici stra stra pieni di rossetti aiuto non solo back ma non riesco neanche ad aprirli per quanti ce ne sono e poi qui ci sono alcuni mini size di benefit il mio smalto di lubouten che è troppo bello per non metterlo in mostra e poi là dietro lo vedete c'è il mio kit sopracciglia top by nicole il mio kit con benefit e poi qua dietro c'è il kit di rossetti balman tutta la collezione balman per l'oreal e poi qui c'è ci sono io insomma con il mio kit per benefit ed ho ordinato una cornice in modo da metterlo in cornice ma non questo quello un pochino più grande che ho quindi sto aspettando anche quella e poi qua dietro c'è invece la di or rouge una collezione insomma ci sono tantissimi prodotti di or ma mi piaceva tanto quindi ho voluto lasciarla qui e qui una cosina che manca altra cosa devo metterci ancora i quadri o probabilmente un quadro ma sto aspettando che mi arrivino i cosini per appendere gli ordinati perché non uso chiodi ma uso soltanto sono tipo delle striscioline adesive che poi si tolgono molto facilmente quindi appunto sono resistenti ma si tolgono facilmente quindi sto aspettando che mi arrivino perché qui ci sarà un quadro e qui invece c'è la mia postazione make up ho voluto tenere questa come scrivania che nella casa precedente era invece in soggiorno ma l'ho amata e era un po' sprecata in soggiorno secondo me qui la vedo perfetta perché essendo a specchio a parte che ci sta un sacco di roba all'interno e vi faccio vedere ma ci sta veramente tantissima tantissima roba qui ci sono tutti i miei trucchi che uso di più ma appunto mi è piaciuta l'idea di usare questa che è fatta a specchio perché non chiude l'ambiente tutti i mobili o comunque gli specchi tendono ad aprire l'ambiente piuttosto che chiuderlo l'altra se vi state chiedendo dov'è quella con lo specchio eccetera è in cantina non ho buttato via niente e poi ho utilizzato anche la poltroncina rosa in velluto che adoro questa è di maison du monde questa se non sbaglio anche questa forse era di maison du monde ma non ne sono certo forse di beliani invece la poltrona appunto è di maison du monde che la adoro e questa è appunto la mia postazione make up qui c'è il cavalletto per la fotocamera per la videocamera che in questo momento tengo in mano naturalmente qui ci sono un sacco di trucchi che uso praticamente praticamente quotidianamente per truccarmi correttori prodotti per la base blush fissanti per il make up insomma li conoscete e qui invece qui c'è un po di casino ragazzi ma questi cassetti non li tengo mai in ordine qui ci sono i trucchi che uso di più a parte questo specchio che è uno specchio che ho da una vita e a cui sono molto affezionata dovrei pulirlo ma è un ricordo di mia nonna e qui invece ci sono tantissimi tantissimi prodotti labbra correttori mascara eccetera che uso quotidianamente insomma per truccarmi e poi da quest'altra parte invece ci sono robe di filming videocamere altri cavalletti microfono che di solito uso per i video statici carica batterie della reflex eccetera e qui ci sono invece i pennelli quindi sì questa è la mia postazione make up e qui ci sono appunto i mobiletti con tutti i miei trucchi qui c'è invece questo è fantastico ve l'ho già fatto vedere di benefit è uno di quei giochini tipo del luna park che è la mano meccanica con cui cioè dove la mano meccanica va e preleva i giochini è una figata e questo invece è il peluscino di two faced ma torniamo un attimo alla zona armadio perché non vi ho fatto vedere i miei gioielli e mi chiedete spessissimo di farvi vedere come sistema quindi non è cambiato tantissimo rispetto alla casa precedente ma volevo farvi vedere allora qui ci sono allora qua ho messo tutti i vari nastrini chanel di orlo e vitone e ce ne sono veramente veramente tanti non so che cosa farci sto aspettando che mi venga un'idea perché non mi va di buttarli sono troppo carini poi qui come potete vedere ci sono invece i miei occhiali adoro questi organizers come potete vedere in plexiglass sono molto comodi e così non rischio di rovinare i miei occhiali qui ci sono i miei due orologi a cui tengo di più c'è il mio Cartier questo è il Panther e poi qui c'è invece il mio Rolex che è un date just poi vi faccio vedere appunto sotto come ho sistemato i gioielli appunto non è cambiato tantissimo ma questi sono i gioielli ci sono tutte le mie collane oro e argento bracciali anelli questo è quello di Dior che vi piace tanto eccolo qua poi appunto altri bracciali qui ci sono delle collane con le perle bracciali argentati bracciali dorati poi qui ho un sacco di orecchini e li ho suddivisi per colore quindi dorati e argentati oro bianco qui ci sono i miei bracciali daniel wellington san loran questo è quello di or che indosso spessissimo questo è quello di tiffany che era un regalo un tipo di nil di tantissimi anni fa ma lo conservo sempre qui ci sono i miei bracciali di or quelli in in stoffa e poi i miei orecchini louis vuitton che mi piacciono tantissimo la spilla questa è quella di chanel con le perle gli orecchini san loran che è scomodissimo questo orecchino dovrei venderlo perché non lo uso praticamente mai e poi qui ce ne sono altri questi sono di Dior questo anche questi sono louis vuitton quindi questo è quanto per il primo cassetto e poi qua sotto ci sono appunto altri gioielli e le cinture alla fine ho ritrovato non so come ma nel secondo trasloco ho ritrovato la mia cintura gucci nera ci sono appunto le mie cinture gucci marrone e nera poi c'è quella Dior e quest'altra Dior e poi qui ci sono tutti i miei orologi daniel wellington questo invece è di Michael Kors Casio Marc Jacobs qui ci sono i miei choker questo è l'ultimo che ho preso quello di Dior un altro di Dior è questo di Saint Laurent i miei orecchini Valentina mi chiedete sempre dove li ho presi sono di Valentino poi ci sono questi vintage chanel che adoro e poi altri chanel che ho preso invece questi dalla boutique la scorsa estate prima dell'estate un altro bracciale questo è di louis vuitton che dovrei indossare di più perché è molto bello e questo invece è di Bulgari che mi è stato inviato dal brand e lo adoro e poi appunto altri gioielli qui ci sono quelli chanel louis vuitton che purtroppo non fanno più li fanno solo nella versione piccolina e poi altri Dior questi sono di Versace e vi piacciono molto questi me lo dite sempre e poi altri di chanel sempre con le perline e questo è quanto anche per questo cassetto poi vabbè qua sotto in realtà ci sono soltanto asciugamani e cose da amare qualche appendino extra ma ci sono un sacco di costumi e roba del genere e poi qua sotto ci sono invece tutte le mie scatole vuote dei miei gioielli in realtà che tengo perché non sono anch'io perché però sono tutte qua e lì ci sono altre cinture extra e qualche full hard questo è di Dior tra l'altro ma arriviamo alla parte delle scarpe e delle borse che so che volete vedere tutti che siete curiosi e tadan eccola qua la parte delle scarpe e delle borse allora come potete vedere per far stare tutte le cosine che avevo nell'altra casa dove c'era più spazio nelle cabine armadio cosa ho fatto? Ho aggiunto diverse mensole quindi vedete che ce ne sono molte di più prima c'era tanto spazio in realtà erano tutte molto di come dire c'era tanto spazio che avanzava e poi come potete vedere le ho aggiunte anche sopra perché ho ordinato dall'IKEA lì le ho già sistemate vedete che qui ci sono questi due ripiani sono extra si possono acquistare all'IKEA sono le librerie billy queste e vendono anche un ripiano extra appunto per queste librerie ne ho già comprati due non pensavo me ne servisse un altro ma in realtà sì quindi ho ordinato un altro di questi ripiani appunto ma sto aspettando che mi arrivi però appunto le scarpe lì saranno anche loro coperte presto con un altro di questi ripiani quindi sarà una mensola in più praticamente in alto per le scarpe quindi queste sono le mie scarpe qui ce ne sono delle altre sto pensando se aggiungere un altro di quegli billy piccolini qui che ce l'ho in realtà potrei aggiungerlo qui e spostare queste due verso sinistra oppure aggiungerlo direttamente qua non lo so vedremo quindi ho ancora un paio di scarpe che devo sistemare e poi ho quelle tipo i monboot e altre scarpe che insomma uso raramente le ho messe in cantina e sono incredibile ma vero ma sono tutte 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 qua a parte quelle che vi ho fatto vedere che ho dato via non ne ho dato via altre quindi sono tutte qua qui ci sono i miei stivali Stuart Weitzman e poi ci sono i mocassini di Gucci le ballerine quelle di orche adoro e poi ci sono le mie sneakers queste sono Chanel Gucci queste sono quelle Puma queste All Star ce n'è una qua e una qua perché avanzava spazio queste sono le sneaker Valentino Valentino queste sono quelle di Gucci con l'inserto rosa bellissime e poi qui ci sono i miei stivali Gianvito Rossi questi sono Louboutin questi sono Jimmy Choo altri Louboutin li riconoscete dalla suola rossa e questi sono invece gli stivaletti Gucci qua sopra ci sono le ballerine Miu Miu che tutti odiate che io odoro Valentino Chanel e Chanel poi altre sneaker queste sono quelle di Christian Dior Louis Vuitton Balenciaga e qui ci sono invece le décolleté queste le adoro queste di Valentino sono tra le mie preferite in assoluto e poi ci sono quelle Gucci Dior altre Louboutin e queste sono di Hugo Boss e poi là sopra appunto ci sono altre altre décolleté quindi questo è quanto per quanto riguarda le scarpe appunto qui ci sono altri stivaletti gli aghe eccetera che devo vedere ancora come sistemare e qui ci sono i quadri che devo ancora appendere quindi quello che vi dicevo quel restante 5% sono appunto praticamente i quadri le scarpe e la mensola che mi manca comunque questa è appunto la parte delle borse delle scarpe che tutti eravate super curiosi di vedere e qui ci sono come potete vedere tutte le mie borse qui non ho aggiunto mensole extra per il momento ma potrei sempre farlo perché lo vedete che su ogni mensola c'è un sacco di spazio che avanza quindi in realtà abbassandole ci starebbe anche più roba vedete lì è la stessa è lo stesso discorso però per il momento sto cercando di muovermi senza rompere le scatole a gatto Denver quindi lo sto praticamente sto facendo slalom e queste quindi ragazzi sì sono le mie borse tutte 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 quante inclusa la nuovissima nuova baby arrivata che alcuni mi hanno detto sia simile come colore a quella Tiffany ma in realtà come potete vedere sono due colori molto diversi e questa l'avete definita color indaco oppure carta da zucchero e penso che appunto abbiate ragione penso che sia appunto un colore indaco e queste appunto sono tutte le mie borsette la sotto c'è il trolley il Louis Vuitton e questo è quanto ho messo anche la camelia tutta glitterata qui adoro lì come sapete non c'è nient'altro che la lavanderia quindi non c'è niente di interessante ma ci sta molta roba per fortuna quindi ho un sacco di storage ed è molto utile comodo avere la lavanderia qui dove ho i vestiti mi sono reso come un'altra casa erano uno su un piano uno sull'altro qui invece è molto molto più comodo e questo vi faccio un altro un'altra panoramica come piace dire a me un'altra panoramica borse e scarpe da questa parte angolo make up con la mia scrivania e i miei mobiletti qui e vestiti giacche e cappotti invece invernali da questa parte con i miei gioielli volevo farvi vedere ancora in velocità i trucchi come li ho sistemati anche se non sono perfettamente comunque qui ci sono i fondotinta notare quello max factor con il mio nome qui adoro e quindi sì ci sono fondotinta qualche correttore poi qua sotto ci sono i primer qui ci sono prodotti per le sopracciglia e ciprie qui invece ci sono qui ci sono tutte le box con i prodotti in polvere di Benefit qui ci sono blush e terre quindi di un sacco di brand diversi e poi qua sotto ci sono invece gli illuminanti e alcune matite occhi che non so perché sono qui eyeliner devo mettere ancora un po' posto comunque appunto qui teoricamente dovrebbero esserci gli illuminanti poi qua sotto invece ci sono gli ombretti mono pigmenti qua dietro qui alcune palettine sempre di ombretti e questi invece sono i miei glitter e la colla per glitter poi da quest'altra parte ci sono invece tutti i miei ombretti in crema primer in crema qui qui ci sono le matite labbra da questa parte qui invece ci sono tutto ombretti questa è gollata di là questi invece sono tutti ombretti in crema o liquidi qua dietro ci sono alcune ciglia finte ed altri pigmenti e qui da questa parte ci sono solo solo mascara poi qua sotto ci sono un sacco di palette varie ed eventuali e poi qua sotto ci sono invece un sacco di rossetti e tinte labbra e qua sotto invece ci sono un sacco di altri prodotti labbra tipo gloss eccetera che devo ancora mettere a posto da questa parte invece ci sono allora qui ci sono i miei smalti non semi permanente però questi sono gli smalti normali che purtroppo uso poco da quando faccio il semi permanente qui ho alcuni pennelli e poi qua sotto ci sono invece qui ci sono tutti i prodotti che ancora devo usare quindi non vi farò vedere perché non c'è niente interessante se non qui invece ci sono altre palette e qua sotto altre palette ancora e per il resto ci sono appunto altri prodotti che devo ancora utilizzare e qua sotto c'è invece il cassetto dei capelli con la mia piastra shampoo secco mollette eccetera quindi mia family questo è quanto per il video di oggi finalmente avete visto la mia cabina armadio l'angolo make up avete visto tutto quanto quindi spero veramente che vi sia piaciuto di aver soddisfatto la vostra curiosità al 100% con questo video quindi noi ci vediamo comunque molto molto presto con l'home tour della casa completamente arredata in cui vi farò vedere tutto quanto le altre stanze ok quindi stay tuned per quello lì e niente mia family voi vedrete questo video domani che è venerdì quindi lo sapete io sabato e domenica non carico quindi ci vediamo lunedì alle 17.30 puntuali mi raccomando bacio grande e vi abbraccio forte 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 a lunedì ciao ciao